Ciao a tutti ragazzi siamo in un nuovo video oggi siamo in un video speciale perché oggi andiamo a giocare a calcio ovviamente con i bar e tutte cose e siamo in Coppa Europa ragazzi oggi ci sarà Juve Milan questa è la Juve di Wuster inizia la Juve ovviamente forse la Juve dagli uve forse rete a me mi pareva paro ma forse è tutto comunque primo rigore battuto ancora siamo al primo rete secondo rigore parata così a caso madonna terzo rigore ok quarto rigore però stanno pure una volta parentesi ok parata benissimo è il satirare o rete due e un quindi ragazzi siamo al quinto rigore che sarebbe l'ultimo ha vinto il parma ha vinto il parma ragazzi ha vinto il parma ma è ancora tutto da vedere noi andiamo a verificare allora vai ciao a tutti ragazzi siamo in un nuovo video oggi siamo in un video speciale perché oggi andiamo a giocare a calcio ovviamente ovviamente forse è il mio taglio dagli uve e più servizi alla uve ovviamente forse è il mio taglio dagli uve comunque non è gol a me mi pareva paro non è gol comunque primo rigore è il mio taglio ancora siamo al primo ok secondo rigore parata così a caso terzo rigore quattro rigore però è stato un'altra parentesi pochè parata bellissimo è sa tirare oh rete due forse è rete non lo so è sa tirare eh lo so devo vedere io con i miei occhi ascoltamente ragazzi scusate dopo vi dico se è gol è sa tirare no ragazzi rete 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 retone ragazzi alla fine retone oh rete due quindi ragazzi siamo al quinto rigore che sarebbe l'ultimo ho vinto il palma ho vinto il palma ragazzi due preso zero non mi ricordo però vabbè comunque allora continuiamo con oh 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 allora ragazzi faremo stavolta Parma no ma come scusa non abbiamo fatto parma no Juve Milan questa è la Juve e questo è il Milan comunque iniziamo iniziamo la Juve deve subito iniziale inesvolta rete la Juve tocca a Milano paratone della Juve ce l'avete visto secondo rigore comunque parato vediamo se ce la fa no oh questo è da rivedere questo è da rivedere secondo rigore terzo rigore parato uh questa è misa di rete quarto rigore secondo me è il segnato più presente quarto rigore parato o non è rete allora quinto rigore ultimo rigore ma penso che abbia vinto il Milan però tutto da vedere e vedere se è vero allora continuiamo con oh oh sono dal video di prima ciao a tutti ragazzi siamo in un nuovo video oggi siamo in un video oh ragazzi oggi ci sarà il Juve Milan questa è la Juve il booster questo è il Milan il pennello inizia la Juve ovviamente forse la Juve ha vinto Milan oh non è rete allora quinto rigore ultimo rigore ma penso che abbia vinto ma buono terzo rigore ok adesso a tirare oh rete due quindi ragazzi siamo al quinto rigore che sarebbe l'ultimo ho vinto il Parma ok si adesso Parma tutto da vedere tutto questo da vedere allora continuiamo la mente è il Parma la mente è il Parma parma no ma con le Parma no scusa non abbiamo fatto con le Parma no Juve Milan questo è il Juve e questo è il Milan con ah aspetta che vedete subito iniziale inesvolta Rete no paratone della Juve ce l'avete visto secondo rigore comunque Parato vediamo se ci va paratone no oh questo è l'arrivo no 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 difficile no difficile ragazzi è andato fuori ragazzi è andato fuori posso darvi vedere posso darvi vedere secondo rigore terzo rigore parata una a una uh questa mi sa diretta uh questa rigore terzo rigore parata forse pareggiata core terzo rigore pareggiata terzo rigore parata ma quindi siamo uno a uno uh questa mi sa di rete quarto rigore secondo me è segnato più perché quattro rigore parato nel Milan uh non è in rete ora quinto rigore ultimo rigore ma penso che abbiamo vinto il Milan però tutto da vedere ragazzi una a uno quindi si farà il sesto rigore aggiuntivo sesto rigore aggiuntivo ovviamente sempre par con noi core er no e adesso tocca il sesto rigore quindi tira la juve uh questo mi sa di rete però non è detto e adesso tocca al Milan se segna quindi ho vinto ok no adesso voglio rivedere il bar andiamo subito a rivedere se è colo forse gol aspetta palo 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 niente l'ha parata presa palo ma che comunque paro allora si continua ragazzi 10 minuti sta durando sta roba si continua al settimo rigore ragazzi veramente palo qui sto io quindi se segna il Milan ha vinto rete forse rete ragazzi forse ha vinto forse ha vinto il Milan non tutto da rivedere ragazzi 10 minuti sta durando sta roba si continua al settimo rigore ci fa veramente palo qui sto io quindi se segna il Milan ha vinto rete e vince il Milan ragazzi assurdo quindi in finale andrà Milan Parma questo sarà il Parma il Milan e questo è il Parma beh adesso andiamo alla Zara e mettiamo il VAR e si vede chi vincerà la 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 Coppa Europa finale chi vince vince inizia subito il Milan un'emozione dentro l'emozione da sbagliato niente siamo al primo rigore e allora secondo rigore seconda rigore pure che tira il Parma fuggito terzo rigore ok ovviamente sempre rimane il terzo rigore adesso il quarto tiri bassi fanno tiri bassi un quarto sempre rigore di rigore comunque oh forse hai preso l'altra pezza è quello che dicevo che facciamo di ritro sì allora penultimo tiro ok ragazzi var ragazzi veramente quel tiro in alto mi ha fatto veramente aprire in bocca aperta era altissimo var attraversa ragazzi lo posso vedere che è attraversa guardate questo esatto momento e prende l'altra pezza oh forse hai preso l'altra pezza sì attraversa sì allora penultimo tiro e allora ragazzi continuiamo con la salbar allora ok ragazzi si continua con la sala abbiamo sempre la sala sesto rigore rigore sesto rigore e allora ragazzi si va col sesto rigore aggiuntivo retone se non segno il parma se non segno il parma è rovina var 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 non voglio parlare var che ragazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti.